Si torna a casa per la prima volta a fare un concerto veramente a casa perché siamo in linea d'aria a un chilometro da casa mia e quindi è bellissimo, è bellissimo che Silea, il sindaco, l'assessore abbiano accettato di fare questo regalo alla cittadinanza perché era una mia voglia da tanto. Torna a casa Red Cancian, questa volta con un dono prezioso costudito negli anni tra il canto della sua voce e le note del suo iconico basso. Un concerto il 24 settembre all'impianti sportivi comunali di Silea per ripercorrere le tappe successi della sua vita e carriera accompagnato virtualmente da tanti altri artisti. Nel concerto ci sono molti duetti virtuali con Mario Biondi, con Enrico Ruggeri, con Marco Masini, con una sezione di fiati che ha lavorato con IPU tanti anni fa e soprattutto un duetto con Stefano Dorazio, il mio collega che non c'è più. Ed è l'ultimo regalo che lui mi ha fatto prima di andarsene ed è ogni sera molto molto commovente, molto molto toccante, bellissimo, bellissimo perché quando alla fine esce dal video con quella mano che saluta è esattamente come l'ho visto l'ultima volta io. Una mano che saluta oggi forse da un po' più in alto, quella di Stefano Dorazio, dopo 40 anni di palchi e ricordi e in questo concerto dalle forti emozioni ad accompagnare Red Canzian, un team speciale. È un concerto in famiglia perché ho mia moglie in regia, mia figlia che canta e fa i cori, mio figlio che suona la batteria e poi ho due musicisti che sono come due figli anche loro perché Alberto Milani è di Pordenone e Vanni Antonicelli è uno che è entrato con un tale entusiasmo nella mia vita che è bellissimo suonare con lui. Quando la passione supera ogni ostacolo, questo è il titolo del tour che poco tra le righe vuole gridare e ha una ripartenza anche personale dopo una difficile sfida che l'ha visto combattere questa volta fuori dal palco. È stato un anno poco divertente, nel senso che a gennaio quando siamo partiti con le prove e la partenza del musical Casanova che mi era costato tre anni di lavoro, io sono stato ricoverato per due mesi in ospedale. Però da lassù qualcuno ha voluto che tornassi a fare il mio mestiere e le interviste come adesso.